Sono stati due giorni molto costruttivi, loro sono un'ottima squadra, abbiamo fatto degli elementi molto duri, ripeto molto costruttivi, arriveremo sicuramente a Nover molto preparati e con le carte in regola per comunque fare bene, centrare l'ultimo obiettivo che è comunque il più importante. La Nover secondo me è una buona squadra, è stata un po' sfortunata durante il girone, comunque ha fatto dei buoni risultati con il Solnok, con l'Olimpiakos, quindi hanno anche il fattore campo, quindi ci metteranno sicuro in difficoltà. Dall'altra parte ci sono squadre veramente molto forti, attrezzate, che ci possono mettere in difficoltà, come l'Oiug, che ci ha dato filo da torcere negli anni precedenti, l'Olimpiakos, che ha vinto l'ultima Champions League, quindi sarà sicuramente una Final 8 come non l'avete mai vista.